Le tre dosi sono il completamento di un ciclo vaccinale. Se sappiamo, guardiamo anche i nostri figli, tutti hanno tre dosi, la maggior parte dei vaccini ha tre dosi. Perché? Il tempo zero è, diciamo, lo stimolo iniziale, quindi il triggered. A un mese c'è il cosiddetto richiamo, che è una specie di sfida, il challenge, quindi si attiva la risposta immunitaria e dopo sei mesi, un anno, la terza dose, il cosiddetto booster, amplifica la risposta. Quindi se dobbiamo pensare a una quarta dose, che non può essere un altro booster, perché i booster, come ho detto, si fanno tra sei mesi e un anno, quindi aumenta solo di poco la risposta cosiddetta effettrice, cioè i linfotisti B e T che rispondono immediatamente, ma non le cellule in memoria. Anzi, il nostro organismo può considerare che questo antigene è un proprio antigene e quindi ipoergico risponde meno. Quindi ci sono motivi immunologici, epidemiologici, e quindi è meglio attendere, soprattutto in una fase come l'attuale di decremento significativo, e vedremo questo autunno, perché in questa fase, andiamo verso una bella stagione, un virus a diffusione aerea ha poche possibilità di diffondersi.